Musica Quasi tutte le civiltà conosciute hanno osservato i moti dei pianeti e delle stelle e hanno cercato anche di sviluppare un modello cosmologico in qualche modo a volte molto semplificato, a volte solamente metaforico Cosa significa abbandonare la Terra e vederla come un oggetto di fronte a noi? Che lingua parlano alieni? Non lo sappiamo Perché dovremmo aspettarci di incontrarli nello spazio e non li incontriamo sulla Terra? Ma quello che più conta, hanno creazioni buone o cattive? Nella nostra galassia potrebbero esistere almeno mille civiltà tecnologicamente avanzate e pronte a scambiare messaggi con noi Il modello che tutti conosciamo, che è sovravvissuto per migliaia di anni è stato il modello in cui la Terra era il centro dell'universo e il Sole, la Luna, eccetera, gli altri pianeti e le stelle giravano intorno Posso ipotizzare che esistano due tipi di pensiero Un pensiero, diciamo così, normale I pensieri fatti per produrre qualcosa, per funzionare in qualche modo e poi possiamo ipotizzare che esiste un'altra dimensione di pensiero che possiamo associare alla Luna che forse non si capisce bene, almeno non subito, non immediatamente si capisce bene a che cosa serva Questo tipo di pensiero, che appartiene a tutti è alla base del lavoro artistico Uscire fuori nello spazio significa radicalmente desiderare che nella parola desiderio è iscritta questa altra parola che è la stella, il siderum Desiderare, cosa significa? Fare a meno dell'armonia delle sfere Uscire dall'ordine cosmico E' l'uomo che desidera E' l'uomo che desidera Cioè non appartiene a un cosmo Non appartiene alla stella E da questo punto di vista è la parola disastro quella che è più pertinente per parlare della conquista spaziale Dis-astro Desiderio Parole che indicano il fatto che la verità degli uomini è tutta legata al non iscriversi in un cosmo già prestabilito al non avere una verità già fatta e al dover incontrarla dentro e fuori di sé ogni volta che incontra un altro Metti pulsanti o corrimano o maniglie in luoghi dove non hanno alcuna funzione Fermati ogni tanto a riflettere a ciò che stai per fare e prova a fare l'esatto contrario Realizza dei cartelli stradali in tutto e per tutto simili a quelli esistenti con indicazioni incongrue quali rilassati o non ti fermare o dubita o gioisci elenca dieci modi di sporcarsi le mani e mettili in pratica Volete costruire qui in questa piazza un missile? Secondo me non dico siete pazzi dico naturalmente quando cominciamo Grazie alle lezioni teoriche un primo risultato sembrava raggiunto Gli abitanti della fabbrica occupata abbandonato lo scetticismo iniziale incominciavano ad accogliere il nostro invito a giocare insieme al gioco della luna Tutto lasciava intendere che fossimo pronti a passare alla fase successiva Grazie a tutti Quattordicimila chilometri ci separano dalla luna Come ridurre questa distanza? La prima occasione ce l'ha regalata il planetario di Roma che in modo del tutto inaspettato ha invitato le famiglie di Metropolitz a guardare la luna da vicino Un piccolo passo per l'umanità ma un lungo viaggio per chi abita dall'altra parte della capitale Così abbiamo capito che per raggiungere la luna si poteva iniziare passando dall'euro Lo spazio per la fantasia c'è anche negli scienziati Anzi io credo che sono una componente di sogno perché la scienza è anche sogno non è solo fatti concreti sia necessaria per vivere Questi strani buchi sono provocati dagli impatti di sassi vaganti asteroidi o meteoriti che si trovano nel sistema solare e che urtano contro la luna creando queste cicatrici L'incontro con la luna qui al planetario da parte di Space Metropolitz sarà basato anche un po' sulle esigenze io penso dello stesso pubblico al quale potremo offrire diversi punti di vista Ho avuto modo di vedere quando sono venuto da voi anche se il pubblico poteva sembrare improbabile diciamo per quel tipo di argomento che invece l'argomento cattura e apre orizzonti ecco per me la parola chiave è questa che apre orizzonti, stimoli e nuove prospettive Sai, prima ho detto che vorrei andare sulla luna per stare in pace in realtà mi piacerebbe andare sulla luna per vedere la terra che sta in pace a presto Andere Andere Grazie a tutti.